Buonasera, ben ritrovati, come vi avevo anticipato mettiamo insieme Oriente Occidente in questa seconda parte di Nord Estate, lo facciamo con Silvio Franceschinelli in arti DJ Shiro ed Erico cantante e modella. Intanto grazie di essere qui con noi, loro lo fanno parte, hanno fondato l'associazione Amicizia Italia-Giappone Ocha Cafè, il sito è cultura, barrettina sopra, non so come si dica, giapponese.it e loro fanno questa sorta di ponte tra Oriente Occidente, tra Italia e Giappone tramite una scuola che è la scuola Mulino che ha sede a Legnaro in provincia di Padova ma che opera poi in realtà in tutta Italia. E allora voglio chiedere proprio, chiedo a te Silvio, subito questa associazione cos'è, come opera, come collabora e come lavora con la scuola? Sì, la prima relazione è che l'associazione ha sede nella scuola, per cui è proprio una relazione fisica diciamo. Poi la scuola si occupa dei corsi, è una ditta la scuola, mentre l'associazione fa attività non a scopo di lucro, per cui si occupa di arte giapponese, di cultura, di dimostrazioni, di arti marziali, tutto quello che è la cultura giapponese per farla conoscere agli italiani. Mentre la scuola si occupa di insegnare giapponese agli italiani e diciamo italiano ai giapponesi oppure inglesi agli italiani. Sì, fa sia corsi di lingue normali in collaborazione con l'associazione i corsi di giapponese, tra i corsi di lingua normali ci sono anche i corsi di italiano, qui spesso ci sono giapponesi fra i partecipanti. Questo è stato un po' uno dei motivi per cui è nata anche l'associazione, grazie agli insegnanti giapponesi e agli studenti che studiano italiano. E quanti studenti studiano giapponese perché è una cosa un po' particolare, non è da tutti i giorni. Sì, beh in estate chiaramente i numeri sono molto ridotti, anche perché molti li mandiamo a studiare in Giappone. Una delle cose che organizziamo sono le vacanze studio, c'è la possibilità di alloggio con famiglie giapponesi che culturalmente è molto stimolante, però nei corsi regolari da ottobre a marzo-aprile un centinaio di studenti distribuiti in varie città li abbiamo. Il tuo tramite, il tuo ponte è stato Errico? Errico in realtà è arrivato dopo nell'associazione, c'erano già altri giapponesi con cui lavoravamo, l'associazione continua ad ingrandirsi e a un certo punto è entrata anche Errico. Errico si dice? Sì. Tu sei cantante e modella, tu vieni dal Giappone e adesso vivi in Italia da un po'. Sì, da ormai quasi quattro anni. E qui che cosa fai? Studio canto lirico e insegno lingua giapponese agli studenti italiani e adesso soprattutto sto lavorando con lui, DJ Shiru, non con Silvio Franceschi, ma lavoro con DJ Shiru a fare vari concerti in giro tutta in Italia, ma non solo in Italia ma anche abbiamo fatto concerti in Svizzera, in Francia e anche in Giappone. E che musica canti, che musica proponi? Dipende dal posto e anche dipende da che pubblico c'è, ma normalmente quando andiamo con il nome di associazione Noce Caffè andiamo al festival che riguarda il Giappone, a tema il Giappone quindi ci sono tanti ragazzi, tante persone che amano cultura giapponese o cartoni animati o fumetti, allora là facciamo, suoniamo le sigle di cartoni animati. In giapponese? In giapponese, sì sì sì. Mentre a Tokyo abbiamo fatto concerto non solo le canzoni giapponesi ma anche le canzoni italiane. Ah, pensa un po'. Ma chi ama questo tipo di musica? Solo i giapponesi, non penso. Questo tipo di? Di musica? Ci sono anche italiani ovviamente che vengono ad ascoltare la musica giapponese. Sì, sì sì sì. Assolutamente, ci sono i cultori della musica giapponese. Ci sono tantissimi quelli che sono cresciuti un po' anche come noi ma anche quelli che ancora ci stanno crescendo con i cartoni animati, conoscono le sigle dei cartoni animati soprattutto però c'è una nicchia che è abbastanza grande di persone che hanno approfondito il discorso, hanno continuato a informarsi su gruppi giapponesi, cantanti giapponesi e sono diventati fan di questo tipo di musica. Tanto in questo momento storico in cui si parla molto della Cina e del Giappone non è che avete avuto un aumento, comunque un maggiore interesse nei confronti di questa realtà, comunque di questo ponte, contatto tra l'Oriente e l'Occidente. Sì, dunque parlando come scuola per il cinese in realtà non c'è questo grande incremento, vari sono i motivi. In realtà da un lato penso che chi vuole studiare cinese lo fa con scopi prettamente lavorativi, per cui lo fa all'università, lo fa per laurearsi e con un percorso diverso. Il giapponese è proprio in genere un hobby, una passione che uno ha perché legge i fumetti, guarda i cartoni animati, si è appassionato a questo tipo di cultura e lo fa proprio come hobby, per cui un paio d'ore a settimana ed è spesso anche una scusa per ritrovarsi con persone che hanno lo stesso hobby, per scambiarsi i fumetti, per poi ritrovarsi ad andare alle fiere. Ecco, voi organizzate appunto eventi dedicati al Giappone, immagino non solo a Padovo, comunque a Legnaro, ma in giro per l'Italia? Soprattutto in giro per l'Italia. Perché c'è forse meno cultura qui che in altri posti? Diciamo che le città grandi offrono molto di più, sia in termini di sponsor che di strutture, che di organizzazione, che di facilità di raggiungimento, per cui è molto più facile anche per noi organizzare qualcosa a Milano, Roma, addirittura Napoli, piuttosto che a Padova dove a volte ci sono difficoltà. Ecco, questo sicuramente. E una giapponese che vide a Padova, come si trova? Non è stato difficile l'inizio soprattutto? All'inizio sì, cioè quando sono appena arrivata a Padova non conoscevo nessuno, non avevo nessuno che conosca, amici, non sapevo ancora parlare lingua italiana e non sapevo ancora la cultura italiana che è molto diversa da quella giapponese, quindi all'inizio ho fatto molta fatica a abituarmi a vivere in Italia, ma piano piano ho trovato amici italiani e mi sono abituata anche alla cultura e soprattutto si mangia bene in Italia, quindi tutto a posto. Abbiamo visto che ti sei abituata anche a gesticolare. Come gli italiani? Sì, sì. Adesso quali sono i prossimi appuntamenti importanti? Chi lo dice? E tu, vado io? Di 10. Vai, in settembre... Fra di voi come vi parlate? Soprattutto italiano, quasi sempre italiano. No, ma non è vero, cioè... Qual è l'età? No. Cioè anche lui parla molto bene giapponese, quindi... Sì, tutti e due. In Giappone abbiamo parlato soprattutto giapponese, perché chiaramente bisogna essere capiti da tutti. Spesso lavoriamo con altri artisti che sono giapponesi, in quei momenti usiamo il giapponese, però in realtà il suo italiano è molto superiore al mio giapponese, per cui ci si adatta sulla lingua più facile. Le donne sono sempre più bravi degli uomini, anche in Parabica. Sì, scherziamo. C'è le cose... Scherziamo, scherziamo. Torniamo agli appuntamenti. Sì, torniamo agli appuntamenti. Il primo weekend di settembre saremo a Caserta, una manifestazione che si chiama La Reggia del Fumetto, faremo il nostro spettacolo intero e poi a metà settembre, il weekend che se non sbaglio è 16-17, saremo a Catania, una manifestazione che si chiama Etna Comics, questa è molto grande, ospiterà anche altri artisti giapponesi, noi saremo fra gli artisti che vengono ospitati. Ci saranno anche altri, ad esempio spesso ci incontriamo con artisti italiani che fanno le sigle italiane dei cartoni animati, come la famosissima Cristina d'Avena o il collega Giorgio Vanni, con cui eravamo anche un mese fa, per cui spesso ci si ritrova anche con questi quasi colleghi, perché poi sono mostri sacri, insomma, per chi ha la nostra età e conosce tutte le canzoni. Poi faremo un po' di pausa, perché è finito il tour estivo, vogliamo rielaborare lo spettacolo, le canzoni, i costumi, le coreografie, perché Enrico anche danza durante gli spettacoli, per cui dovremo un po' reimpostare tutto e poi inaugureremo il tour invernale con Luca Comics, che è la fiera italiana più grande, più famosa, 200.000 persone in un weekend, sono un bel numero, e lì proporremo l'anteprima del nuovo spettacolo che poi porteremo in tour nell'inverno. Quindi in Giappone ci siete già stati, ritornerete, probabilmente quindi vai anche a salutare amici, parenti? Sì, l'ultima volta in realtà non siamo riusciti perché eravamo a Tokyo solo per lavoro, essendo lei di Nagasaki che è un po' lontano, non siamo riusciti ad avere tempo neanche per la famiglia. Quindi dovrete ritornare assolutamente tipo a Natale o in inverno? Sì, spera, se riusciamo ad avere delle date, degli appuntamenti. Fai il più presto possibile. Ecco, voi andate lì anche appunto per creare queste strutture ponte per gli studenti che magari vogliono fare poi un tirocinio, tra virgoletto, comunque un soggiorno? Sì, il fatto di andare ad esempio in agosto dà l'occasione di incontrare tutti gli studenti che sono lì per i corsi estivi, per cui andiamo anche a vedere come sono le famiglie, come sono gli istituti e dall'altro lato andiamo ad incontrare artisti, fotografi, musicisti che poi vogliamo portare in Italia a fare mostre, concerti o attività e in più andiamo a lavorare perché per esempio l'ultima volta abbiamo fatto dei servizi fotografici, abbiamo fatto dei video in giro per Tokyo che prossimamente vedrete su YouTube, per cui tutta una serie di cose che giustificano. Il Giappone com'è nei confronti degli italiani? Io ho chiesto appunto com'è l'Italia nei confronti dei giapponesi, ma il Giappone com'è? Come persona giapponese o... Cosa pensano dell'Italia? I giapponesi vogliono sempre venire a fare un turismo in Italia perché pensano che veramente in Italia si abbia un paese e anche cibo. Sì, ci ammirano molto per il cibo, la musica, per cui se come straniero vai in Giappone e dici sono italiano... Oh! Ah sì? Sì, sì, sì. Allora io volevo chiedere magari se ci aiutava Ruggero in questa avventura, cioè volevo che ci lanciasse la musica e la base appunto per Ericko e magari tu ci canti questo qualcosina rigorosamente in giapponese. Vediamo Ruggero che poi udara. Il nostro corso gratuito www.ilmedia.com Grazie! Assolutamente brava, mi dispiace che non abbiamo l'applauso del pubblico. Tu studi canto anche qui in Italia? Sì, soprattutto volevo studiare, sono venuta in Italia perché volevo approfondire questo studio del canto. Perché in Giappone è importante ma forse in Italia siamo tra virgolette più bravi? Perché mi piace l'opera italiana, allora ha senso che venire in Italia e studiare anche la lingua e conoscere anche la cultura italiana e magari anche posso andare a vedere al teatro la vera opera italiana. Infatti ogni anno io vado all'arena, infatti immaginavo, assolutamente. Tra l'altro qui leggevo che tu sei un'appassionata del Kyrie. Kyrie? Che cos'è? Ce lo spieghi? Eh, Kyrie va... Ha detto qualcosa ma non so che cosa ha detto. Kyrie, quando ero studentessa in scuola media, facevo un corso di Kyrie. Kyrie è esattamente un quadro ma fatto con carta tagliata. I famosi aeroplanini o elefantini? No, sono degli strati di carta tagliata e in genere rappresentano un paesaggio a volte con degli animali però le carte colorate danno la fisionomia di quello che si vede. Molto più facile da vederlo che da spiegarlo. E fai anche un corso di questo genere per chi volesse impararlo a fare? Non ci avevo pensato ma... Potrebbe, oddio, già Silvio si sta preoccupando. Il problema è sempre il tempo perché già abbiamo poco tempo per lezioni regolari, concerti, prove, video, foto. Non mettiamo le altre idee in testa che poi... Ma allora, allora, all'interno della scuola oltre ai classici corsi di lingua che cosa c'è? Oppure tramite l'associazione? Sì, l'associazione organizza corsi culturali spesso. Per esempio in luglio abbiamo fatto un corso intensivo di lingua giapponese in cui per cinque giorni da varie città d'Italia sono venuti, dormivano e mangiavano con noi e studiavano cinque, sei ore di lingua al giorno. E in più c'era ad esempio la cerimonia del tè, il corso di calligrafia, tutte queste attività che normalmente non fanno parte dei corsi di lingua. Queste stesse attività a volte le portiamo come dimostrazione o se siamo in un teatro grande proprio come spettacolo anche ai festival o in questo tipo di contesti. Siete in due o siete di più? Siamo in molti di più. Siamo in molti di più, quindi circa... Dipende da cosa facciamo e dove. Ad esempio quando andiamo a Luca Comics che è grande e ci impegna per quasi una settimana, l'anno scorso siamo andati su giù in 15-20 persone, per cui è un buon numero. Chiaramente essendo la sede a Padova, anche quando facciamo le attività a Padova, siamo in molti. Spesso però se facciamo i festival e l'associazione partecipa con noi due come artisti, a volte andiamo giù in due e basta. Sono in due. Silvio Franceschinelli in arte e DJ Shiro. Cioè in pratica cosa fai? Allora, fondamentalmente... Tu sei il fondatore un po' di tutto questo. Sì, molte delle idee che porta avanti l'associazione vengono da qua. Come DJ sto dietro a lei che canta, metto le basi, le mixo, aggiusto i volumi, che è tutto un lavoro che facciamo anche in studio prima, in modo che la canzone poi sia pronta. In realtà assieme scriviamo anche canzoni, perché alcune di quelle che portiamo nei concerti sono originali, scritte da noi o con l'aiuto della sorella di Enrico, che è anche musicista. E poi dietro a lei io salto, corro, mi arrampico e intratengo il pubblico pagliaccio. Allora, vi ricordo il sito dell'associazione www.cultura-giapponese.it e poi Scuola Mulino, trovate anche tutto sia su YouTube che su Facebook. In bocca al lupo per tutte le vostre attività, per la scuola, per la tua passione, per la musica, per i concerti. Ci ritroveremo sicuramente per parlare di questo e altro ancora. Buona giornata a tutti e a voi grazie dell'attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.